E ciao a tutti ragazzi, io sono di nuovo EletroSeg, perché sì, sto registrando questo video dopo la panacea, perché la panacea è un SCP inutile, non serve a un cazzo. Cioè sì, è utile, però per gli esperimenti è inutile, a che cazzo serve? No, bambini, voi non avete sentito nulla, caffetteria. Direi ragazzi di andare dall'SCP di oggi, che si trova sempre nella zona particolare dove stava la panacea, quindi nello scorso episodio, come ho già detto, dobbiamo anche trovare Nocciolina e lo Shy Guy, ancora non abbiamo trovato né Nocciolina e lo Shy Guy. Prima però direi di mettere il portale della Porter Gun nella cella, non facciamo i casini come la volta scorsa, che ci dimentichiamo. Eccolo là, questo è il portale, direi di andare ai notte. Ragazzi, vediamo a far poco. Ok ragazzi, siamo tornati, direi di andare, quindi se andiamo adesso veramente, e stavolta per davvero, dall'SCP di oggi. Adesso l'allosauro è intelligente. Bravo! Perché ho fatto sta cosa? Non lo so. Ah, direi. Allora, l'SCP di oggi è da quella parte. Ed è molto facile, è molto vicino. Speriamo di non trovare qualche creeper, che ne sai che... Ah? Quella è noccio... Cio... 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 Questa è la statua. Sì, è lei! Ma... Scusi? Ma che ci fa lei? Ok. Allora, ragazzi, abbiamo trovato la statua. Questo elemento lo cattureremmo. Ecco fatto, infatti abbiamo appena catturato e contenuto. Facciamo una cosa intelligente, andiamo a contenerlo per bene, perché appunto non possiamo mica... Cioè, avete appena assistito ragazzi alla cattura di questo tipo. Però era semplice, nocciolina. Eeeh... Non era uno di quegli SCP che ti fa venire jumpscare e l'emorragia celebrale. Ok, nocciolina ti stacca all'osso del collo. Però di per sé è nocciolina. È un SCP abbastanza inutile. Facciamo una cosa. Allora, tu vieni qua. No. Vieni qua. Vieni con... E io, nocciolina, ti metto nella tua gabbietta. Ok, allora. Eccoci qua. Siamo nella gabbia della nocciolina. Adesso facciamo una cosa del genere. Sempre. Devo... Devo riuscirci, raga. Devo riuscirci. Ecco fatto. No. G... Ok. C'è un impallamento tra i polsanti. Però comunque abbiamo catturato la statua. Ce l'ha con me dal vetro. Va bene, raga. Abbiamo catturato un SCP. Ci manca solamente lo 096. Lo shagai. E poi avremo catturati tutti gli SCP. Adesso direi di rimettere di nuovo il portale nella cella dell'SCP. Che andiamo a vedere oggi. E stavolta. E stavolta per davvero. Senza perderci il chiacchiere. Ci andiamo. Ok, ragazzi. Allora, siamo arrivati. E questa qui. Era davanti. Nocciolina qui davanti. Davanti alla cella. Sul fondo c'è. Vediamo un po'. Acqua. L'acqua non è pericolosa. Quindi direi di buttarci. Weird gatto. Ok. È una cella per lo più normale. Sì. Che carta richiede una carta a livello 2. Direi di entrare. Ok. 0. Eh. La figlia di Eletro. Eh. Dai. Chi è che non conosce la Youngerlet? Ah. Ok. Questa parte me la potevo tagliare. Però va bene così. 0.53. È la figlia di Eletro. La figlia che se la picchi. Sei morto. Quindi. Mi raccomando. Bambini. Voi non dovete mai fare del male ai vostri compagni. Perché se li fate male. Farete una bella fine. Perché questa bambina. Se li andate a. A picchiare. Questa. Voi morite di attacco cardiaco. Quindi mi raccomando. Bambini. Ecco. Infatti. Questo era l'effetto. Quindi. Bambini. Mi raccomando. Non fate mai del male ai vostri amici. Allora. Bambini. Stavo dicendo che. Non c'è nulla di cattivo in questo SCP. Possiamo contenerlo con tutta la calma dell'universo. Intanto ciao 050. Aia. Ma che ca. Ho preso mezzo. Ciao. Voglio fare amicizia. Aia. Vuoi diventare il mio amico del cuore. Vuoi diventare. Lo so che vuoi diventare. Aia. Però. Ma che faccia. Che faccia. Va bene. Ciao. Togliamo anche l'armatura. Aia. Ma questa rifletta. Eccolo. Ho detto che questa fa l'attacco cardiaco. Guardate. Ping. E infatti. Rifletti. Dai. Ma se io tipo. Le tirassi l'arco. Questa. Col cancro. Ma porco. Giudo. Questa ha riflettuto troppi danni. Guarda la freccia come è finita. Aspetta. Fammi riprovare. Porco. Ok. Tu. Sei una brava baby. Dillo nel profondo. Aia. Però. Basta. 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 E niente. Siamo morti. Ha avuto un infarto. Eletro. E infatti. Eletro. Ha sempre gli infarti. Quando vede le persone. E adesso siamo all'inizio. E non abbiamo una cazzo di chiave. Eletro. Raga ci vediamo fra poco. E una bambina cattiva. Questo lo sai eh. Lo devi sapere dal fatto che sto tenendo il tuo token. Ai. Oh. Hai rotto. Dai niente. Raga. Allora. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato. Che non si fa mai violenza sui bambini. Soprattutto. Sulle donne. E. Ok. Allora. Abbiamo tutta la roba. Penso proprio di sé. Non il visore. No. La SWOT. Vabbè. Oggi è stato un video un po'. Un po' eh. Non è il video del solito in cui l'elettro cazzeggia. Però è stato un video eh. Dai dillo. Dai di. Gianfranco. Dai. Dai. Su. Forza Gianfranco. Dillo nel profondo del cuore che il video è stato un video molto ironico. Dai. Dai. Lo so che lo vuoi dire. Abbiamo visto una simpatica bambina che poi simpatica neanche tanto. Che adesso. Dai. Ecco fatto. Abbiamo portato col portale. Sempre se io mi ricordassi come era fatto il mio inventario. Ecco fatto. Voilà. Abbiamo sistemato l'inventario. Direi di andare dentro il portale. Questa simpatica bambina non verrà messa qua dentro. Perché questa è una cella troppo cattiva per una simpatica bambina di non si sa quanti anni. Ne ha tre anni. Se non erro. Se ha tre anni. Quindi raga. Direi. Facciamo una cosa intelligente. Andiamo nella zona. Mia. Andiamo ragazzi. Nella zona mia. Che era di. No. Ragazzi. Sto posto per me è diventato un po' la vi... Ma perché spawnano i mostri? Perché scheletro? Perché esisti? Perché non te ne vai a faccola? Ma muori. Ma muori un gioco. Oh. Muori. E non tornare più sulla termina a comando. Ecco quelle te le lascio con la. Andiamo raga. Mette a po'. Ma questo laboratorio mi sta... Porco di. Qua hanno pure buggato la porta. Ecco. Scommetti che ce ne da due. Ce ne ha date due. Brutto creep. Guarda. Io giuro che i creeper li ucciderò nel 2021. Sempre se arriveremo nel 2021. Che ne sai che non ci arriviamo. Ah ragazzi. Sto perdendo la pazienza. Questo laboratorio. Non è buono. Non è sicuro. Pure se abbia attivato l'elettricista chiamato lo psicologo. Questo laboratorio non è comunque un posto sicuro per il mio gatto. Quindi raga. Allora la simpatica bambina. La mettiamo. Sapete dove? Qua. Ciao. È il momento di andare da questa parte. Lo. No. Ok. No. No. Dov'è il blocco? Oh. No. G. Perché i blocchi della portal gun si buggano? Eh? Me lo spiegate questo problema. E' una simpatica bambina. Tu puoi fare tutto quello che straccacchio vuoi. Ti metto pure una porta. E non hai visto assolutamente nulla. Tu zombie devi crepare. Ce l'ha con la bambina. Come è possibile? Adesso fai. Raga. Gli zombie sono scemi. La younger starà qua. Devo mettergli il coso. Ma questo ci penserò dopo. Il video ragazzi termina qui. Lasciate un bel like. Iscrivetevi. Lo so. Stanno diventando penosi sti video. Da java. Non so perché. Perché sembrano che i video li sto facendo così tanto per farli. Io mi impegno. Non è colpa mia. Non è colpa mia se troviamo gli SCP inutili che non fanno un cazzo da una battita. Voi non avete sentito nulla bambini. Quindi dammi l'elettrostatico e tutto. E lasciatemi bestemmiare in santa pace. Anche perché quel creeper. Quello zombie. Devo sistemare l'illuminazione. Dal vostro elettro elettricista. E tutto. Ciao.